ciao a tutti e benvenuti sul mio canale torniamo dopo un po di tempo con un video dedicato al maxi recupero che ho fatto ormai quasi un anno fa a genova nel dicembre 2023 e che comprende gli albi della fascia dal 700 al 2006 più o meno qualcuno da sostituire qualcuno da integrare però si tratta bene o male di questi ho fatto dei video appositi con le fasce fin cui trattate quindi dalla 700 alla 1399 escluso l'800 perché l'ho trattata in un altro video visto che avevo già acquistato quella fascia in precedenza e ho inserito in più anche la 1800 che tra l'altro è il video di apertura perché è quello riferito agli albi che ho acquistato in edicola da bambino adesso andremo ad aggiungere un tassellino in questa playlist con i numeri che vanno dal 1400 al 1499 come sempre utilizzerò l'ausilio di index per reperire qualche informazione e vi mostrerò gli albi in questo caso si trattano della fascia totalmente completa e quella vi racconterò qualche aneddoto quindi mettetevi comodi un video che durerà circa un'ora un'ora e dieci come sempre immagino e all'interno di questa fascia troveremo oltretutto il numero uscito quando sono nato io quindi ci sarà anche da dire questo bando alle ciance cominciamo numero 1400 copertina di Marco Rota con Topolino che disegna un panda la foliazione di circa 160 pagine questo ve lo mostro un po' meglio visto che è il primo il sommario è alla fine in tipico stile anni 80 e comprende 4 storie no 6 in realtà no 5 scusate Paperino e il vento del sud è la quinta e ultima puntata storia epica scritta da Guido Martino e disegnata da Giovanni Battista Carpi che è una sorta di paroria via col vento ve l'ho portata anche sul canale l'anno scorso poi abbiamo Pippo e la festa dell'amicizia le GM e la gara di bendaggio Zio Paperone e la inesoribile difesa e Topolino e il boom dell'antiquariato le storie italiane sono la prima e l'ultima è di Filadelfiamato e Alberico Motta e Agnese Fedeli vi mostro la prima pagina di Paperino e il vento del sud e questo è il 1400 albo che si apre benissimo molto anni 80 nei colori e nelle rappresentazioni che sono fatte con le sue rubriche e qui troviamo appunto se lo sai rispondi, caro Topolino eccetera eccetera qui avevamo ancora le pistole perché si potevano pubblicizzare albo 1400 costava 700 lire quindi come i bonelli del periodo ed eravamo ancora in Eramondadori per qualche anno 1401 questo numero interessante perché negli ultimi anni è diventato piuttosto famoso la copertina è sempre di Marco Rota e presenta Zio Paperone col ponte sullo stretto di Messina perché la prima storia è appunto intitolata così trama di Elisa Penna sceneggiatura di Giorgio Pessina e disegni di Giorgio Cavazzano abbiamo Paperone che fa una gara con Rockerdac e a chi riuscirà a costruire il fantomatico ponte sullo stretto di Messina di cui si parla sovente da secoli ormai e la particolarità è che sulla destra cioè ai bordi delle pagine troviamo anche alcuni riferimenti sui ponti quindi alcuni riferimenti storici il ponte più antico e così via storia che negli ultimi anni ha creato delle speculazioni sull'albo perché è stato mostrato anche da da Matteo Salvini se andate su ebay quest'albo addirittura costa 20, 30, 40 euro è un albo che deve costare 1 euro non di più queste in ottime condizioni e non lo dico perché perché lo dico io ma perché è così è quella è il classico la classica speculazione ah qui in ultima di copertina cioè nell'ultima pagina delle storie troviamo club di Topolino con il bollino avevamo sia ancora i bollini che proprio in questa fascia a un certo punto sarebbero scomparsi quindi sono gli ultimi anni del Topolino siamo nel 1982 per la cronaca non vi ho detto all'inizio il primo il 1400 uscito il 26 settembre e l'ultimo che andremo a vedere invece risale alla fine 1984 quindi siamo in questo periodo qua ma vi ho detto che del resto sono gli albi di quando sono nato io e quindi siamo appunto nei primi anni 80 e anche l'ultima storia è di Giorgio Pezzin Zio Paperone e le minere surgelate e poi sono tutte storie estere quindi questo è il concetto 1402 copertine comunque piacevoli sicuramente anche se molto anni 80 su certe cose anche questa è di Marco Rota si parla di di futuro prima storia Zio Paperone e le zanzare e la giovinezza questa invece è straniera Carl Falberg e Jaime Diaz studio chissà se non ci sia qualche storia interessante l'ultima invece Zio Paperone e le minere surgelate che è la seconda parte della storia precedente dell'albo di Giorgio Pezzini Alberico Motta e Ignese Fedeli faccio vedere almeno la la pagina introduttiva quindi numero 1402 procediamo 1403 La disfida di Paperetta questa è una copertina sempre di Marco Rota che anticipa appunto questa storia che si intitola La disfida di Paperetta di Giulio Chierchini ai testi e ai disegni è una parodia della disfida di Barletta ecco questa è una storia che magari potrei leggere e portarvi sul canale non la conoscevo assolutamente è in due parti però credo che si concluda sul numero successivo esatto perché allora funzionava così non c'erano storie in due puntate sullo stesso albo ultima storia di Candy Uggetti e Colantuoni Topolino ritorna allo strusso Oscar allo strusso Oscar ecco l'ultima pagina l'ultima storia è quello che abbiamo visto nella storia sull'ambita Coppa che è uscito nella fascia 1003 se non erro questo è Oscar non sapevo che ci fosse un ritorno e che appunto ha partecipato al recupero di questa Coppa che era stata rubata quindi questo è molto interessante non lo sapevo il bello di scoprire questi albi è questo di di venire a conoscenza di queste cose quindi albi in ottime condizioni questo ha qualche macchia ma sinceramente me lo tengo così 1404 siamo sempre con un albo tecnologico sempre di Marco Rota 24 ottobre 82 la distrita di Paperetta conclude la prima parte diciamo la prima storia anche qui abbiamo lateralmente qualche qualche cosa scritta vediamo per esempio qui scusi saprebbe dimmi l'ora certo ma che serve tanto cambio continuamente sono delle freddure in questo caso molto interessante l'ultima storia volevo vedere si intitola Pippo eroe due volte a prima puntata anche qui quindi troviamo spesso prima e ultima storia in due puntate come era già successo per esempio nella fascia precedente questa è di Fila del Fiammato Maximio Torcajada Aguilar Michael Pujol e Studio Recreo in Chiostri quindi una storia italo-ispanica va bene 1405 anche questo mi sa che è un disegno di Marco Rota che comunque faceva fatto molte copertine in quegli anni esatto Zio Paperone insieme alla discordia di Pezzin e Cavazzano la prima storia anche questo in due puntate si parla di Archimede cioè Archimede e si parla di extraterrestri e poi alla fine si conclude anche Pippo eroe due volte Topolino 1405 1406 questo è un po' più spesso il regalo 16 pagine di neve Giancarlo Gatti alle copertina in questo caso abbiamo Zio Paperone se me la discorre la conclusione della storia come ci sarà anche penso la fine del no cioè Topolino e l'isola dei sogni fuggenti l'ultima storia di Mognato Palez Julio Antonio Ramos Pochi Sánchez Núñez e Inchiosti quindi anche questa Italo Iberica però qua ci sono 16 pagine in più dedicate alla neve quindi c'è questo allegato in cui si parla appunto di di neve di calendario di corse di gare ecco questo è uno di quei numeri che magari fanno pagare un po' di più si vede comunque che è più grosso è un po' sporco ma sinceramente è in ottime condizioni anche abbastanza bianco 1406 1407 qui abbiamo Super Pippo una delle sue copertine ne parlavamo privatamente con degli amici nei giorni scorsi abbiamo in basso ogni sabato su Rete 4 vai col verde sarà qualche programma che veniva prontrasmesso allora Rete 4 se non sbaglio non apparteneva ancora a Berlusconi ma alla Rusconi erano comunque reti private non a diffusione nazionale ancora il super Bernoccolo il zio Paperone di Maria Peirano Romano Peirano e Massimo De Vita apre la storia apre l'albo Paperone che anticipa che spiega le azioni rocker rack con un canocchiale alla finestra e poi abbiamo Topoline Furti Corrosivi la seconda parte se non sbaglio no non è la seconda parte è una storia comunque di pezzin che conclude l'albo ah e qui abbiamo di nuovo il bollino quindi ce n'era uno al mese mi sa a questo punto uno ogni quattro numeri ma stiamo per arrivare alla conclusione 1408 moda sci siamo comunque negli anni 80 e dobbiamo ricordarlo quindi c'è molto di queste belleità di successo zio Paperone la tredicesima buca è di Michel Motti Giorgio Cavazzano e Sandro Zemolin all'apertura continuano sempre i testi lateralmente e poi topoline le previsioni televisive di if e bonnet di studio if e studio bonnet a conclusione dell'albo qui ci sono 48 pagine della giga legate che sono qua vediamo non mi sembra molto più grosso quest'albo o non sono o non ci sono nell'allegato ma sinceramente non me ne frega niente comunque qui c'è Big Jim no non mi sembra che però manchi qualcosa ah sono queste forse direttamente della stand sì perché siamo misalperione eccole qua gran pubblicità di consumismo siamo del resto il 21 novembre 82 quindi ci avviciniamo piano piano al Natale di quell'anno 1408 poi abbiamo il 1409 questa è una cover un po' diversa interessante sarà forse una parodia di Marco Polo disegno sempre di Marco Rota e poi la storia di Marco Polo detto il milione di Guido Martina Romano Scarpa e Sandro Dal Conte infatti all'apertura abbiamo questa questa è una di quelle storie interessanti primo episodio sono tanti questa non l'ho ancora letta quindi sicuramente è una di quelle storie importanti l'ultima è Topolino il tesoro del farone di Alfredo Sai Adreina Repetto Alberigo Motta e Agnese Fedeli Caccia al tesoro del deserto vediamo se riesco a farvela vedere velocemente eccola qua ecco questa del milione la voglio leggere assolutamente si conclude la prima parte addirittura un crossover con Papi e Topi forse già ambientata ai tempi di Marco Polo questa sicuramente la devo andare a leggere 1410 abbiamo uscito siamo a dicembre ormai del 1982 vediamo perché in Dax eccolo qua Marco Rota la storia di Marco Polo detto il milione quindi qui abbiamo questa è una cover sempre dedicata all'eone di Venezia secondo episodio fino alla grande muraglia e poi l'ultima storia Topolino il mistero del settimo giorno di Greg Crosby e Jaime Diaz Studio come storia italiana c'è solo questa però che storia quindi molto interessante qui non abbiamo ancora il bollino però mi sa no infatti poi inizia una cosa molto famosa una saga molto famosa la spada di ghiaccio quindi comunque la fascia 1400 io pensavo all'inizio che fosse abbastanza anonima invece in realtà oltre la spada di ghiaccio c'è ancora qualche bel pezzo interessante siamo negli ultimi anni comunque di collaborazione di Guido Martina e di Carpi vabbè Carpi e Scarpa ancora avrebbero continuato però non è tutto diciamo da buttare tra virgolette pure da buttare non c'è niente però le storie italiane sono sicuramente superiori alle altre arriva la spada di ghiaccio quindi questa presentazione di Marco Rota prima storia di apertura della storia di Marco Polo Letto il Milione episodio 3 intitolato Missione a Sa Yang Gifu vediamo se si conclude qui no però abbiamo anche alla fine la saga della spada di ghiaccio che vi confesso io non ho mai letto cioè la prima parte della spada di ghiaccio non ho mai letto perché è uscita ecco io non ero ancora nato e da bambino questi albi non riuscivo a recuperarli e non credo che ci fossero neanche di stampe allora topolino la spada di ghiaccio di Massimo De Vita ai testi e ai disegni quindi qui abbiamo l'inizio di questa famosissima saga che ancora oggi continua e poi le altre sono tutte storie riempitive superpippole GM e una storia di paperino 1411 l'unica cosa è la costina leggermente scolorita ma sinceramente è un albo perfetto a parte questo 1412 albo piuttosto particolare questo è un numero doppio disegno di Marco Rota albo che io avevo avevo due volte perché mi fu regalato in un lotto che presi da un venditore che prende me lo face un numero regalò lo paghei comunque un euro oggi online si trova anche 10 15 20 euro perché pare che sia considerato un numero importante sicuramente un numero particolare 288 pagine però mi sembra il solito frutto di speculazioni né più né meno un albo da pagare 2-3 euro secondo me non di più comunque numero molto importante natalizio siamo al 19 dicembre 82 copertino detto di Marco Rota il canto di natale di Guido Martina con disegni di cose colomers font che apre la storia che è un canto di natale con paperone scrooge quindi che si rifà in parte anche al canto di natale di topolino che uscì nell'83 non so se fosse già in produzione o se fossero due cose contemporanee se Martina l'avesse realizzato inconsapevolmente è una storia molto importante questa l'ho letta è una delle ultime grandi storie di Guido Martina per questioni proprio anagrafiche molto interessante poi abbiamo all'interno di quest'albo abbiamo una storia di Bambi la principessa con la cinne Pippo l'albero di disaccordo Ezechiele Lupo Capoindiano Paperino e il premio vacanza Topolina Spadeghiaccio seconda parte quindi mi sa che Marco Polo è finita la settimana precedente qui abbiamo Bambi tutti i bellissimi relazionali natalizi molto belli qui abbiamo questa storia di Paperino ah no Marco Polo ha detto il milione mi sembrava strano la principessa con la cinne ok questo è il titolo veniva riportato così e non si sapeva quindi quarta parte quindi in quest'albo abbiamo addirittura il canto di Natale di Paperone scritto da Guido Martina la quarta parte del milione e la seconda parte della spada di ghiaccio cioè questo è un numero veramente importante vediamo se si conclude qua tra l'altro sì fine quindi quarta parte qua c'erano delle figurine e neanche nell'altro albo che ho dato via c'erano ma non mi interessano e poi abbiamo tanti tanti articoli Adriano Celentano molto giovane questo qui è Ciccio Graziani il presidente Pertini che allora era in carica e poi vabbè Cenerentola siamo comunque il primo di Natale e poi appunto abbiamo questa breve storia con Mini e Clara Bella mi è sembrato di vedere Pippo e l'albero e Disaccordo e poi Paperino e il premio vacanza e la seconda parte della spada di ghiaccio eccola qua che si conclude se non sbaglio il numero successivo quindi numero molto importante questo numero 1412 andiamo avanti procediamo dobbiamo accelerare 1413 copertina natalizia molto bella quelle che fanno un po' riferimento ai piatti Giovan Battista Carpi Topolini la spada di ghiaccio la terza parte e mi sa che si conclude qui esatto e poi abbiamo basta perché le altre saghe si sono concluse poi sono tutte storie normali diciamo numero molto più piccolo rispetto l'altro l'ultima storia Pier Francesco Prosperi Maurizio Amendola Zio Popeno il segreto degli abissi va bene 1414 questo è il primo numero il 1983 il mio anno di nascita disegni di Marco Rota in copertina Topolini di distrazione di Minni di Bruno Concina e Sergio Asteriti Minni conduce un programma di grande successo ecco qua Asteriti buon anno e poi abbiamo tante altre storie Paperino l'amplificatore elettronico in chiusura vi dico sempre la prima e l'ultima che di solito sono italiane infatti Ennio Missai e Giulio Chierchini quindi il grande Missai anche qua e poi il pizzicotto di Carlo Candy e Giovanni Battista Carpi quindi questa questa tavola 1415 torna alla Befana questa era questa copertina era mostrata su Speciale Topolino 2000 ma non ricordo il motivo sinceramente forse perché aumentava il prezzo si aumentava ah no non era già aumentato 800 lire da poco copertina con con Nocciola e Belzebù di Marco Rota e poi Zio Papernela Cura del Sonno Guido Martini e Francesc Barcadà studio in apertura quindi le ultime storie di Martina che comunque era regolarmente presente Topolino tutto lavoro Umberto Volpini Cesar Ferrioli Palez e studio Recreo a chiusura dell'albo e qui abbiamo sempre il pizzicotto che è questa saga legata forse a qualche concorso se lo sapete ditemelo e anche qui ci sarebbero state le figurine che non credo che ci siano ma non non mi interessa 1415 procediamo 1416 Paperino vestito da prestigiatore copertina sempre di Marco Rota quindi finora tutte di Rota tra in una di Giancarlo Gatti e una di Carpi che era quella riferita ai piatti Zio Paperone il deposito in orbita di Carlo Candy e Giorgio Cavazzano ah qui ritorna Ok Quack in una delle sue storie della sua saga c'è anche Imperio Bocarto che non so se esordisca qui no credo che abbia esordito l'anno prima e poi vabbè altre storie Topolino e Gorilla Sonagli anche questa di no questa non è italiana Bell'albo è un po' macchiato qua ma va benissimo così Eta Beta ci presenta il 1417 del 22 gennaio 83 sempre di segni Marco Rota Zio Paperone il corpo segreto di Bruno Concini e Guido Scala in apertura abbiamo Lasky Rocker Duck e i nostri amici prima puntata quindi ce ne sarà ce ne sarà un'altra e poi a chiusura Pippo La Sega dell'autostrada di Bruno Mandelli e Sergio Asteriti ah qui ci sono le figurine eccole qua qui ci sono addirittura due pagine di figurine ah interessanti ah dedicate agli amici del mare io adesso sto procedendo a imbustare piano piano tutti i miei albi di Topolino e quindi li guardo uno per uno di conseguenza mi serve per capire se ci sia qualcosa da sostituire e quindi col tempo vi dirò cosa è rimasto da da modificare 1418 vince oro con la Toposcheda quindi si parla di Totocalcio Topolino e l'arca di Buda Nassar di Giorgio Pezzini e Massimo De Vita che apre l'albo e poi Zio Paprone il colpo segreto di Concine Guido Scala che conclude l'albo qui abbiamo la serie A di quell'anno c'era il Catanzaro ultimo anno di serie A e sì e questo è l'anno che vinse la Roma che poi io nacqui qualche settimana dopo e quell'anno la Roma vinse lo Scudetto 1419 6 febbraio 83 Marco Rota Topolino e l'arca di Bulbul Banassar in in apertura i pezzi in e Massimo De Vita anche qui ci sono le figurine sì ci sono soltanto però una una serie una pagina e poi qui c'è la la tessera Topocleb numero 344308 dell'83 qui c'è il bollino e qui c'erano tutti i vari bollini da legare per avere dei premi quindi ancora c'erano diciamo queste queste iniziative ormai il bollino però da lì a poco sarebbe scomparso molto interessante questa tessera sono contento che ci sia che quest'albo sia praticamente in tonso tra l'altro credo che sia la copertina del gruppo Telegram di Alenne questa 1420 siamo a carnevale quindi siamo a febbraio il mio mese di nascita Marco Rota ci presenta qui qua qua è la prima storia Paperinic e la cassaforza sigillata di Fila del Fiammato e Francesco Barcada Studio un'istoria di Paperinic molto interessante leggere Paperinic in queste vesti eccolo qua anche qua abbiamo le figurine quindi praticamente mancano soltanto in un albo ci sono quasi tutte piccola ventura il mugnaio mulino bianco che bello che era qui c'era il tegolino i puffi e poi abbiamo Topolino del Carnevale Movimentato di Osvaldo Pavese e Sergio Asteriti non abbiamo abbiamo sempre il pizzicotto non abbiamo il club il bollino magari è messo da qualche altra parte comunque 1420 adesso ragazzi abbiamo il 1421 un albo per me molto importante perché è quello che è uscito quando sono nato io cioè quel giorno quando nacquise io nacquo il 25 di febbraio se fosse nato in edicola avesse trovato questo che era quello che era stato distribuito dal 20 l'ho anche letto avevo pensato di portarvelo sul canale è un albo normalissimo del periodo non ha soli particolarmente diciamo di spicco però per me significa tanto la prima storia è Topolino in gloriosa fine del Tiger I di Gabriella Damianovic e Luciano Gatto e i disegni poi abbiamo altre storie estere e l'ultima di Guido Martina e Francesco Bercalassurizio proprio nei libri del destino e poi abbiamo questo pizzicotto anche qui abbiamo le figurine tra l'altro quando ho letto non me lo ricordavo insomma quindi quando sono nato io in edicola potevate trovare quest'albo qua molto bello invece il 1422 è uno dei due che ho recuperato perché mancavano in questo lotto l'ho preso un mercatino un euro in condizioni molto buone direi copertina sempre di Marco Rota Topolino e l'ingloriosa fine del Tiger I quindi la seconda parte della storia iniziata sul mio numero cioè di quando sono nato infatti ne l'avevo finita di leggere mi sa ambientata nella giungla e poi abbiamo altre storie qui le figurine però mi sa che non ci sono sono state tolte pace si vive lo stesso e Paperino della giornata del lavoro chiude l'albo di Guido Martino e Morizia Mendola quindi questo era uno dei due che mancavano all'appello 1423 torneo di scacchi Topolino il sesso addirittura Marco Rota Topolino missione in Messico Guido Martino e Sergio Asteriti che apre l'albo non ci sono più figurine mi sa no direi proprio di no procediamo avanti se trovo qualcosa di significativo lo segnalo altrimenti 1424 questo è uscito a marzo il 13 Topolino il cavallo venuto a lontano di Renzo Sciutto e Sergio Asteriti molto interessante avventura iptica Topolino da giovane molto interessante questo questo incipit abbiamo anche di Petap che ormai sono praticamente latitanti dal Topolino disegni veramente di Asteriti i cavalli ricordano quelli della prima storia che è la riniscita di Minni che l'è sul Topolino 1732 che presto vi porterò sul canale eccolo qua 1424 la copertina è con Gilberto tra l'altro che però sembra un pippo quasi 1425 1425 da questo numero Messer Papero la Ghibellin Fuggiasco è il Ghibellin Fuggiasco quindi questa è un'altra parodia disegno di Marco Rota la storia di Carpi Martina scritta da Carpi e Martina disegnata da 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 Carpi serie in sette episodi con Messer Papero anche questo è molto interessante grandi saghe altro che 1400 fascia de Boluccia molto interessante che questa sarebbe da leggere qui c'è mi sembrato di vedere Dante esatto quindi siamo nella Firenze del 1200 1300 molto interessante assolutamente e anche Topolino e Cavallo è venuto lontano alla fine bene anche questa era presente sul sulle speciali Topolino 2000 perché se non sbaglio è il primo albo in cui venivano allegate delle carte operazione carta appunto Messer Papero il contugolino la prima storia veramente interessante sarà stata sicuramente ristampata da qualche parte copertina ovviamente sempre di rota e poi voglio vedere se c'è qualche cosa dedicata a queste queste carte eccole qua le favolose carte da gioco di Topolino quindi forse correggetemi se sbaglio sono le prime carte distribuite sul Topolino molto interessante 1427 siamo a Pasqua copertina dorata disegno di Marco Rota Messer Papero i fiorini di Mastradamo il terzo episodio dedicato al Messer Papero appunto molto bello questa saga me la devo assolutamente leggere 1428 Messer Papero i pirati di Monte Cristo viene presentata qui questa quarta puntata disegno sempre di Marco Rota quindi qui abbiamo i bassotti 1429 anche qui c'è un po' di macchie ma va bene così abbiamo una copertina sempre di Marco Rota Messer Papero il Grotta di Eolo la prima storia che belle che sono poi abbiamo anche Topolino e ladri piumati di Romano Scarpe di Sandro Alconte voglio soltanto vedere quest'altra di 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 Romano Scarpe questo deve essere un gran numero e poi qui c'è qualcosa di allegato sì primavera estate la moda siamo veramente negli anni del consumismo sfrenato del decennio degli iuppi Eagle Force Jig 1429 1430 Topolino mi insegna il tennis in tre puntate qui abbiamo copertina di vediamo sempre di Marco Rota Serpa Perone e Lorenzo il Magnifico ecco pensavo a Lorenzo il Magnifico effettivamente è apparso quindi comunque si va avanti negli anni perché Lorenzo il Magnifico è successivo a Dante cos'è questa un'alfa una Giulietta la seconda serie e qua è il Dorado presente gioco Safari ecco qua i vari gelati della dell'algida eccolo qua Iman chiaramente iniziava poi copertina in parte reale in parte finta di quelle che non mi piacciono particolarmente Marco Rota è la fotografia di una giraffa e poi Serpa Perone è il nuovo mondo quindi qua si va siamo ai tempi della scoperta dell'America quindi mi sa che è un'evoluzione nel corso dei decenni questo racconto non credo che abbiano si siano prese delle libertà qui abbiamo altre figurine che però secondo me sono di un altro di un altro catalogo sia della Calippo cioè della dell'algida praticamente ricchi e poveri va bene 1431 1432 si parla del Giro d'Italia che quell'anno andava dalla Campania al nord Italia quindi su delle isole praticamente escluse come spesso avviene Marco Rota con Pippo ciclista e poi Paperino è la scuola di danza apre l'albo Staff di Ife e disegni di Cavazzano poi abbiamo la storia di Serlock poi Toponile Diabolico Dottor Tajos di Giulio Chierchini anche questo sarebbe interessante da vedere insomma questo è pure un albo ecco anche qua ci sono le figurine addirittura due due confezioni due due gruppi che questo sembra un albo molto interessante voglio vedere prima puntata ecco anche questa molto bella comunque è finita praticamente la Messer Papero 1433 viva l'inserto per l'estate grande inserto viva l'estate 24 pagine infatti si vede che è più grande 15 maggio 83 Il Diabolico Dottor Talos seconda puntata disegna la copertina sempre di Rota si conclude qua pagina 28 ma qui abbiamo le figurine e l'inserto qui quindi è tutto pieno l'inserto se ci sono per carità a me piace non è che voglio dire di no per andare a pagare un albo 10 euro perché c'ha la pubblicità al centro sinceramente me ne faccio anche a meno ok 1434 educazione strale seconda puntata copertina immagino sempre di Rota zio Paperone l'operazione singhiozzo Frank Gordon Payne e Giorgio Cavazzano in apertura quindi Paperone che soffre il singhiozzo immagino anche qui abbiamo catalogo e figurine bene 1435 abbiamo copertina sempre di Rota scusate Paperino la settimana le buone azioni guido scala ai testi e ai disegni e poi qua ancora le figurine ma praticamente ci sono tutte di questa serie finora lo sprint e qui abbiamo i many masters 1436 si parla ancora di Safari copertina sempre di Rota con una foto di tigri anche questa non mi fa impazzire Paperino il tranquillo weekend di Giulio Bordini ai testi e ai disegni in apertura questo sarebbe da leggere e anche qua abbiamo le figurine quindi completo di figurine della Fior di Fragola eccetera molto interessante 1437 alle figurine del Dorado ecco Marco Rota e la storia Topporina la vacanza dei guai di Angelo Palmas e Giorgio Cavazzano e questo è un giallo molto interessante sarà anche questa figurine anche qui col cucciolone è veramente completo sono veramente contento non dico di no se ci sono 1438 abbiamo copertina sempre di Rota Zio Paperino di Rivoluzione Elettronica di Giorgio Pezzini e Massimo De Vita qua si parla appunto di archivi digitali in qualche modo quindi un'anticipazione e anche qui abbiamo le figurine penso che squalo si chiama questo ghiacciolo mai visto non era ai miei tempi evidentemente era già fuori produzione molto interessante 1439 Eldorado vi regala ancora 8 figurine vediamo se ci sono la Rivoluzione Elettronica seconda puntata e Marco Rota in copertina si ci sono le figurine anche qua è completo di figurine ah questo il lemonissimo questo me lo ricordo chissà se ci sono ancora tutti questi gelati 1440 abbiamo Clara Bella fosse mai che tornasse in copertina ma non ci crederò mai soprattutto da sola Toporino l'ingegnoso piano criminoso di Ennio Missaia e Massimo De Vita anche qua ci sono le figurine il cremino questo qua dovrebbe essere c'è anche il piedone però senza cacao sul ditone quindi ancora non c'era io me lo ricordo col cacao 1441 siamo in piena estate come si vede dalle copertine disegno sempre di Rota è in DAX e la copia è molto più brutta della mia Pippo Radio Detective di scrittore Luigi disegni Massimo De Vita eccola qua e anche qua ci sono le figurine perché le sento auguri mondatoi presenta Ziggy e il suo magico mondo tenere dolci Ziggy colora i fantasie e il mondo no in realtà non sono figurine questo è un un cartoncino praticamente adesivo di Ziggy regalo no comunque è un adesivo sì infatti eccolo qua non so se vedete il bordo ma quindi c'è anche qua l'adesivo perfetto chissà chi è questo Ziggy io non l'ho mai sentito nominare 1442 nonna papera con i suoi animali del cortile billy la capra ci sono Gas Gas e l'altro topolino cenerentola non mi ricordo c'è anche Pluto Pippo Radio Detective la seconda puntata qua non credo che ci siano figurine non sono neanche riportate infatti non ci sono va bene così 1442 1443 siamo ancora in estate piena estate 17 no il ah ovviamente copertina di rota anche prima anche in questo caso 24 luglio con qui cuocco e poi zio paperone minera il domani di Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano storia tra Rocker Duck e lo zione 1444 etabeta che si è preso una copertina non so dopo quanto anche però ai miei tempi me la ricordo una copertina con etabeta un bel numero doppio anche qui Marco Rota e poi Paperino il primato alla Sena Piedeo Zaldo Pavese e Massimo De Vita quindi Paperino e Volentare Guinness dei Primati gastronomico qui c'è qualcosa per non in Alconico presentano Edenlandia città il divertimento di Napoli wow cioè io non dico che non siano belli gli allegati però perché andali a pagare 10 euro quindi questo era un evidentemente un parco di divertimenti a Napoli molto bello 1445 giro aereo d'Italia mini in copertina da sola addirittura di Marco Rota e poi Topolino il tesoro dei Faoliani di Bob Langans e Jaime Diaz Studio no qui non c'è niente di particolare direi no 1446 buone vacanze a tutti siamo a Ferragosto praticamente il 14 Marco Rota e poi Zio Paperone la sfida turistica Giorgio Pezzini e Giorgio Cavazzano in apertura eccola qua 1447 ancora estate giochi sotto l'ombrellone siamo a fine agosto quindi comincia ad arrivare alla fine dell'estate Roberto Marini al disegno e il resto è una fotografia non so chi sia questo Roberto Marini prima storia Topolino l'idolo vulcanico l'idolo vulcanico Romano Scarpa e Sandro Dal Conte quindi interessante una storia di scarpa 1448 questo è un album un pochettino diciamo sporco in copertina ma va benissimo Marco Rota e poi Zio Paperone lo scoop ecologico di videoscala ai testi e ai disegni e qui abbiamo un allegato con Latari io me lo ricordo ancora Latari molto interessante 1449 quasi comincia a parlare di scuola siamo al 4 settembre Marco Rota e Paperino il torneo di golf di Sisto Nigro e Massimo De Vita in apertura che questo è un po' sporco però per il resto ottimo qui c'è sempre qualcosa si aprono i fantastici Telescuola gran catalogo pieno di silupim siamo veramente nell'edonismo sfrenato degli anni 80 al consumismo poi abbiamo il secondo ultimo album che ho recuperato a parte questo infatti è imbustato perché l'ho già comprato così dei due numeri vi dicevo che mi mancavano che erano i 1422 mi pare che vi abbia detto e questo 1450 non lo tiro fuori dalla busta così non perdiamo tempo copertina di Marco Rota la prima storia di Diario di Paperino a torneo di tennis di Carlo Candy e Guido Scala quindi apre addirittura il Diario di Paperino una storia quindi 1450 anche questo l'ho comprato un euro un mercatino andiamo al 1451 i nipotini in copertina con pagelle siamo del resto a 18 settembre oddio sembra un po' presto per le pagelle però iniziava la scuola disegni Marco Rota Zio Paperone il diamante dello Zaraguay di Robert Balle Jaime Diaz Studio in apertura quindi sarà una parodia del Paraguay immagino e qui c'è collezione linea scuola 83-84 sì sempre consumismo questo è un po' rovinato dietro ma sinceramente non ho alcun senso alcun motivo né alcuna voglia di cambiarlo 1451 1452 ah Colombo Stori prima puntata vediamo se c'è qualche nuova saga copertina sempre Marco Rota Topolino presenta Cristoforo Colombo Guido Martini e Giovanni Battista Carpi quindi altra grande saga immagino anche questa assolutamente da leggere ecco non ero a conoscenza minimamente il bello di avere questi albi quando vi dico che mi piace recuperare non è per belleità collezionismo sì anche per collezionismo per carità non è per sentirsi migliori degli altri ma perché il bello anche la cosa che più mi apre il cuore è scoprire queste storie prima parte che qua abbiamo sempre la roba con le linea collezione dell'83 qui abbiamo la Burago con le 250 l'auto più costosa della storia venduta a 20 milioni di dollari credo un esempio 1453 Marco Rota Topolino dello Spazio Topolino presenta Cristoforo Colombo seconda parte vediamo se si conclude qua che bello qua bella colorazione qui che c'è qua in mezzo un bacio perugina vabbè l'ho lasciato poi lo buttiamo no non è ancora terminata comunque 1454 l'America è scoperta quindi il viaggio sarà in tre parti penso almeno copertina tra l'altro di Carpi perché tratta dalla storia e vediamo se questa terza parte chiude l'albo o meno chiude la storia volevo dire sì esatto ah quindi è un racconto che Topolino fa tip e tap ok quindi ambientato ai tempi di Colombo va bene 1454 del 9 ottobre 83 1455 16 pagine in più la moda l'autunno e inverno sempre sta roba qui Topolino nel caso dei Brocchi di Pietra di Giorgio Pezzino e Massimo De Vita che apre l'albo sono molto belle anche le tavole introduttive poi abbiamo sì qua le pagine in più sulla moda veramente edonismo sfrenato 1455 1456 qui abbiamo quattro nipotini non tre quindi ci dovrebbe essere anche que in qualche modo Topolino presenta Mini Volley Story Massimo Marconi e Giorgio Cavazzano parte 1 quindi una storia dedicata al Mini Volley qui abbiamo le giovani marmotte abbiamo Pippo è molto interessante anche questo può essere una storia di un certo livello poi è molto bello anche lo sfondo con i colori mi piace molto fino alla prima parte comunque ci sono delle belle saghe altro che pensavo che fossero veramente degli albi abbastanza anonimi invece mi devo ricredere convintamente 1457 copertina sempre di rota mi sa praticamente tutte sue si può dire Mini Volley Story la prima parte cioè nel senso la prima storia seconda parte vediamo se si conclude è qui si e poi abbiamo anche qua ah il catalogo di Barbie giustamente ci sta nell'eronismo ok 1458 siamo al novembre l'83 il 6 copertina Marco Rota Zio Paperoni ritorno al Far West di Bomb Langlands e Jaime Diaz Studio in apertura anche qui c'è qualcosa di allegato sì una cedola 20% di abbonamento qui abbiamo Legoland va bene per il resto niente di particolare 1459 questo sembra pure un albo più grande infatti 16 pagine in più sempre di Marco Rota è una fotografia Topolino è il fantastico Tocamac Tocamac Giorgio Pezzini è Massimo ma è Giorgio Pezzini ecco scusate sono caduti Topolino e li ho messi lì accanto il bello è la diretta Giorgio Pezzini Romano Scarpa e Sandro Dal Conte quindi questa è la prima storia però mi sembra di averla già sentita nominare essendo di Scarpa ci può stare poi qui abbiamo cos'è? un catalogo sì se sai rispondi c'è sempre qualcosa di allegato ecco ecco Barbie sì comunque un po' più grande perché c'è un po' di pubblicità sulla neve 1459 1460 continua il successo di Venti di Guerra cos'era? una serie televisiva bello il titolo è proprio molto intrigante Marco Rota Zio Paperone il Condor e i Condor gioiellieri Rodolfo Cimino Cosè Colores Font è una storia di Cimino qui abbiamo la Buraco il catalogo eccolo qua è bello il catalogo Buraco è bello qui abbiamo il Titanic mi sa no comunque non è moderna ha giocattoli 83 perché giustamente ci avviavamo a quel Natale a cui abbiamo l'Ego Technic che era i suoi primi anni visto che nasce nel 77 questo è il mio primo Natale ragazzi quindi Venti di Guerra chi la conosce probabilmente era una serie televisiva io non ne ho non ne ho notizie non mi sono documentato prima come sapete quindi non vi so dire 1461 27 novembre 83 Marco Rota Zio Paperone di Latte Rosa di Rodolfo Cimino e Francis Barcadassudio quindi Torna Cimino che era un po' che non si vedeva effettivamente qua abbiamo il catalogo sempre dei motorini eccetera 1462 Giubileo Disney disegni Marco Rota Zio Paperone La Piramide Capovolta di Carlo Candy e Giorgio Cavazzano anche qui abbiamo Che Quack Giubileo Disney sono curioso di vedere di cosa si tratta quindi vediamo che dice mi ho preso il Giubileo Disney 60 anni fa nasceva la Walt Disney Production ok qui abbiamo l'Oper Corsa la prima serie che uscì proprio nell'84 quindi era praticamente nuova 1463 anche questa è un po' sporca ma va bene così copertina con questa splendida paperina Marco Rota quella di Indax è messa pure peggio della mia Zio Paperone la Piramide Capovolta la seconda parte che si conclude qua immagino poi abbiamo qua una cartolina insomma le solite cose ci avviamo al Natale ok 1464 anche questo era un albo presente su Speciale Topolino 2000 era il primo che costava mille lire ecco perché da 800 si è passati a mille lire un bello aumento pippo in copertina pippo in copertina disegnato a Marco Rota il super rally natale di Alfredo Saio Andreina Repetto Cesar Fiori Palez Figueras Cosè Sanchez e Nunez Sanchez e Nunez va la prima storia poi qui abbiamo la tessera di Topolino della Tombola anche questa legata non l'avevo visto molto bello particolarità di quest'alvo guardate com'è fuori registro veramente orrendo però sinceramente non credo che lo cambierò perché è originale è stato stampato male è stato rilegato male però originale non c'è non vedo il motivo di cambiarlo ah qui è interessante anche questa ah la prima puntata torna alla spada di ghiaccio Topolino del torneo dell'allargare massimo di vita ai testi e ai disegni parte prima guardate che bello quindi dopo praticamente un anno è tornata e che siamo a fine 83 la spada di ghiaccio è fine 82 bene 1465 bellissima questa cover secondo me di Giovanni Battista Carpi in questo caso e no Romano Scarpa Topolino del torneo dell'allargare chi apre chi apre l'albo un po' rovinata la copertina però va bene così seconda puntata anche qua abbiamo la tombola 5 6 7 8 9 10 11 12 fantastico cioè praticamente ci sono tutti finora bellissimo quando li ho presi non ci ho fatto minimamente caso bellissimo 1466 vive il 1984 qui viene presentato il canto di Natale di Topolino che uscì a fine 83 come vi dicevo in Chiossi di Luca Sabbe di Matite non si sa Topolino la breve vacanza di Bruno Concina Romano Scarpa e Franco Valentini in apertura mi sa che la gara è terminata qui abbiamo ancora delle tesse alla tombola fino al numero 20 bellissimo completo molto molto bello davvero sono contento 1467 abbiamo Amelia che si è guadagnata una copertina siamo tra l'altro gennaio 84 questa è la la seconda dell'8 gennaio disegno Marco Rota e di dopo per noi il viaggio al centro della terra di Fabio Michelini e Guido Scala la seconda parte iniziamo in quella precedente questa è una storia di cui ho già sentito parlare non l'ho letta ma perché mi attirava mi aveva attirato anche nell'albo precedente vedere qualcosa molto bello qui c'è Nocciola alla fine con Pippo Pippo Cacciatore di Streghe di Staff di If Maria Luisa Ughetti e Tiberio Colantuoni 1468 il regalo ai cartoni della tombola quindi torna ancora questa tombola che mi sa che c'è però le ho già sentite al tatto Marco Rota e una fotografia in copertina topolino dei rane saltatrici di Romano Scarpa e Sandro Dal Conte anche questa sembra una storia interessante prima puntata ormai siamo nello stile anni 80 di Romano Scarpa qui abbiamo di nuovo la tombola ormai eravamo però erano finite le vacanze 28 cosa ce ne devo fare la tombola ormai ce ne sono i tre porcellini eccolo qua 1468 1469 di nuovo il mini basket no prima era il mini volley adesso è il mini basket vediamo questo 1469 se in Dax si decide ad andare eccolo qua Marco Rota e topolino dei rane saltatrici in apertura eccola qua vediamo se si conclude qua questa storia di Radisi e qui c'è il mini basket eccolo qua cos'è tutta roba da togliere molto interessante ah e qui abbiamo ancora le tombole la tombola ma che ci dovevamo fare a febbraio ormai vabbè comunque 1470 sempre Marco Rota in copertina topolino e no zio paperone il tesoro di boafforiccio di frank gordon pain e massimo de vita in apertura molto belle anche queste queste tavole di apertura e qui abbiamo ancora la tombola 36 cartelle comunque ci sono tutte non ne manca una 1471 divido i quattordicesimi giochi invernali siamo al 5 febbraio 84 Marco Rota e topolina città perduta di Conga di Osvaldo Pavese e Sergio Asteriti in apertura eccola qua prima parte le zigulì me le ricordo bene qua ancora la tombola 40 tessere ormai arriviamo al Natale successivo praticamente 1472 viva San Valentino bellissima cover con i nostri due innamorati Albo veramente in condizioni bellissime Marco Rota probabilmente non è sicuro in Dax topolina città perduta di Conga in apertura quindi la seconda e ultima parte adesso vediamo se ci sono di nuovo ancora le si è 42 però mi sa che finiscono qua 44 molto interessanti davvero però non le voglio togliere sono contento così beh quando ci sono vi ripeto sono contento in caso sono scemo però non mi va di pagarli 10 euro sinceramente perché questi sono albi che con gli allegati ve li fanno pagare 10 euro e io sinceramente passo l'altro giorno ho visto un numero alla fascia 1500 che mi manca credo il 1508 che aveva pure un allegato una cartolina e costava 10 euro lasciato perdere Marco Rota con tip et tap si inizia proprio saccaccia al tesoro Topolino il dolcissimo Gio Gio e in apertura no Gio Gio Bruno Concino e Luciano Gatto eccolo qua sì ormai comunque è uno standard molto più simile ai miei tempi mi ricordo ah no ancora Quattotessere dal 45 al 48 la Mattel 1474 ci avviamo alla conclusione mancano una decina di minuti come sempre per la prima volta a Venezia teatro in piazza con i personaggi Disney una bella iniziativa sarà stata immagino Marco Rota probabilmente in copertina Topolino il ferro d'oro Romano Scarpa e Sandro Dal Conte a Venezia ritrovare il tesoro un antenato di Topolino quindi una saga pensavo che fosse una manifestazione invece è proprio una saga è molto lunga questa storia in unica puntata però 46 pagine allora erano veramente tante non ci sono più le tessere 1475 carnevale 84 paperone che balla con un bassotto disegno penso sempre di Marco Rota esatto zio paperone il carnevale di Rio di Frank Gordon Payne e Guido Scala perché allora comunque le copertine riprendevano in qualche modo ancora una storia interna come era stato negli anni 60 e come è tuttora ma come non fu negli anni 90 ai miei tempi salvo situazioni particolari quindi storia ambientata a Rio bene dovrebbe essere finiti i bollini perché credo verso il 1470 si conclusero le iniziative legate ai bollini i fantomatici bollini 1476 Marco Rota Pippo e Brontosauro Timidone anche questa è una copertina un po' un po' sporca ma niente di che per il resto ah sommario qui molto molto scialbo molto molto minimalista davvero e qui mi sembra mi sembra povero il topolino in questi numeri qua comincia a essere per un po' 1477 allora 1477 allora aspettiamo un secondo in DAX copertina sempre di Marco Rota con una fotografia e Mimmi Zio Paperone il personal computer di Mauro Monti e Francis Barcadà studio è solo interessante che che sia si parli di computer anche qua questo sommario minimalista 1478 e primavera svegliatevi i bambini Marco Rota Paperino è l'iniquo operazione S di Guido Martini e Studio Bonnet in apertura S sta per sfratto mi sembra che di punta in bianco sia diventato povero il topolino veramente nell'arco di 2-3 albi 1479 abbiamo di nuovo le carte quindi il secondo anno con le carte Disney copertina Marco Rota Zio Paperone il giorno delle interferenze di Giorgio Ferrari Frances Sbarcata Studio volevo farvi vedere anche un'altra cosa dunque innanzitutto qui c'è questo allegato del Nesquik con i puffi di cui non ho minimamente memoria poi c'è vediamo voglio vedere i florini non a papera a cornero questi me li ricordo vediamo se c'è qualche cosa dedicata alle carte no però c'è l'ultima storia Gilberto il tifo scientifico pagina 116 questa qua è una storia che è lessi in un classico Gilberto spiega il significato il calcio come una scienza con i moduli WM una bella storia c'è legato anche un giallo dietro lo lessi in un classico questa è una bella storia 1479 1480 una decina di minuti abbiamo finito siamo 8 aprile 84 Marco Rolta Zio Paperone le miniere disciolte Giorgio Pessin e Giorgio Cavazzano in in apertura qua c'è sempre qualcosa di rigido Orzoro Frollini l'Orzoro faceva anche i Frollini non lo sapevo mi ricordo soltanto l'Orzoro che era il padre l'Orzobimbo l'ITIM con Mr. T e siamo in quegli anni là l'ITIM 1481 i viaggi del sogno alla Transiberiana operazioni carte con Nesquik quindi le carte sono legate a Nesquik in quell'edizione Marco Rota Topolino il maestro investigatore Andrea Mantelli Luciano Gatto eccolo qua e qui abbiamo le avventure zoom da colorare ok ma qui c'è una storia in costume forse ah che bella Sir Locke la vita noiosa bellissima questa tavola di apertura 1482 le carte Nesquik qui abbiamo Clara Bella e Minni copertina sempre di Marco Rota dal diario di Paperina le uova Pasquali Carlo Candy e Guido Scala anche questo albo in questione 1483 questo è grosso ci sarà qualcosa di particolare copertina sempre di Marco Rota Paperinic di Vo del Cinema di Staff If e Massimo De Vita molto bella questa le pagine introduttive sono molto belle qui abbiamo il calippiamo vabbè un inserto bene 1484 operazione quindi Topolino al Dorado sempre Marco Rota La vendetta di Amelia Giulio Chierchini testi e disegni questa sembra una storia interessante magari potrei anche averla letta no non mi sembra 1485 questo numero ce l'avevo faceva parte di quei lotti che mi regalava di tanto in tanto un mio amico ve ne ho parlato più di una volta e mi ricordo che c'era questo numero uscito il 13 maggio 1984 copertina di Marco Rota e c'era una storia in apertura dedicata agli alpini dopo lì l'ho sentato perduto i nostri amici sono a Trieste perché i alpini festeggiano i cento anni e c'è questa storia legata legata alla scomparsa di uno standardo nella prima guerra mondiale quindi 60 anni prima e poi altri racconti albo molto interessante 1486 anche questo è un po' un po' sporchino ma poi si può anche pulire Marco Rota Topolino del Fantasma e l'Opera di Alessandro Bencivenni e Luciano Gatto eccolo qua c'è Orazio addirittura e qui c'è pure sempre qualche allegato ah gli adesivi guarda che sono belli non dico di no quando ci sono 1487 anche qui Marco Rota con Paperino e Paperina Topolino del Fantasma dell'Opera quindi si conclude questa storia immagino esatto 1488 qui non si sa chi sia l'autore della copertina Zio Paperone il tesoro il capitano Barracuda di Sisto Nigro e Guido Scala in apertura questo è un po' leggermente rovinato però anche qua abbiamo questi questi adesivi bene 1489 anche questa è sporca come copertina ma si può appunto pulire con un panno insomma non è niente di così trascendentale devo anche fare un po' di ordine quindi anche anche questo anche in questo senso devo fare ordine Marco Rota Topolino della Vacanza in Immersione Carlo Candy e Giorgio Cavazzano prima puntata 1490 campionati europei di calcio dell'84 a cui l'Italia non partecipò che vinse la Francia in finale con la Spagna Marco Rota Topolino della Vacanza in Immersione che chiude appunto la storia iniziata la settimana precedente qui abbiamo sempre questi questi adesivi 1491 abbiamo i nipotini con Ciccio disegni Marco Rota i viaggi di Paper Gulliver un'avventura a Lilliput Osvaldo Pavese e Guido Scala eccola qua prima parte anche questa molto interessante una bella parodia che potrei aver letto perché mi sa che poi c'è la parte quella in cui lui invece è chiaramente gigante potrebbe essere la volta successiva eccola qua 1492 copertina veramente orrenda perché questo contrasto in realtà cartone animale in realtà al disegno non lo sopporto Marco Rota e fotografia viaggi di Paper Gulliver nei paesi dei giganti eccolo qua si e finisce qui quindi da Lilliput ai giganti non l'ho letta ma vabbè è famosissima la storia di Gulliver 1493 abbiamo quasi finito copertina di Marco Rota immagino anche in questo caso Paperino e le video olimpiade e la video olimpiade di Marco Monti e staff estero spagnolo bellissima questa prima pagina molto interessante ora sembra essere tornato un po' più brillante il topolino ci sono stati quei 3-4 numeri che veramente mi sembrava povero mi dava questa idea Marco Rota ci presenta speciale mare del topolino 1494 il topolino geologo scomparso di Angelo Palmas e Massimo De Vita in apertura quindi storia gialla di sparizione che questa per chiarità potrebbe essere perché no potrebbe essere una storia da raccontare bella lunga tra l'altro in una sola puntata bene due minuti abbiamo finito 1495 speciale olimpiadi di Los Angeles 84 Marco Rota e infatti la prima storia Los Angeles 84 Fabio Michelini e Giorgio Cavazzano manca a farlo apposta prima puntata Cavazzano qui era nel periodo secondo me migliore da lì agli anni 90 1496 Pippo al mare in spiaggia disegnato sempre Marco Rota Los Angeles 84 parte 2 veramente molto anni 80 ma quelle che mi cominciano a che ricomincio a conoscere e termina qui e qui abbiamo tutto storia dedicata all'olimpiadi eccetera eccetera 1497 in viaggio nei mondi sommersi Marco Rota probabilmente Topolino Paperino il Ferragosso al fresco Giulio Chierchini ai testi e ai disegni qui c'è Anacleto che però dicendax ai tratti di di Faina eccolo qua vabbè che poi è la stessa persona Anacleto mitraglio Faina ultimi due albi il 1498 buon Ferragosso a tutti uscito il 12 di agosto dell'84 148 pagine mille lire disegno probabilmente Marco Rota Zio Paperone e Ferragosso in città di Bruno Concina Romano Scarpa e Sandro del Conte in apertura eccolo qua storia unica mi sa un'unica puntata molto belli anche gli sfondi disegni ve la devo far vedere per principio devo vedere se finisce qua esatto infine ultimo numero il 1499 anche questo è un po' sporchino ma niente di preoccupante uscito il 19 agosto del 1984 148 pagine mille lire disegno di copertina di Marco Rota con Paperina in picnic con Elievi ed Emi con Paperino che fa da ponte Zio Paperone della Torre di Pisa prima storia di Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano questa è da leggere sicuramente c'è sempre la presenza di Cavazzano che si è autocita non qua vabbè in altri numeri si è visto sarà una storia in un'unica puntata perché sul numero successivo non c'è questo racconto 38 pagine qua c'è una pagina in bianco ah ecco perché la pubblicità è poi qua viene presentato per la prima volta al mondo la copertina metallica di Cattopolo nel 1500 che sarebbe uscito la settimana dopo non ce l'ho io ma poi ve ne ho parlato nel 1500 e con questo concludiamo con questo lungo video con questo numero concludiamo questo lungo video e il prossimo appunto partirà dal numero 1500 e terminerà col 1599 detto questo vi saluto e ci vediamo col prossimo video